il governatore del mondo mario da salerno anzi giovanni da teramo vai giovanni ma le valigie ancora non le fa parenzo per tornare al paese suo no anzi e ora che lui fa le valigie no c'è il paese suo perché sta qui in italia quale sarebbe scusi il paese mio quale sarebbe mi in italia in italia dal cinquecento dal mila e cinquecento la mia famiglia dal mila e cinquecento da valenza a casa tua ma non ho capito ma quale sarebbe casa mia ignorante io non penso ma quale sarebbe casa sua giovanni diglielo aveva almeno almeno sa quale barca prendere quale aereo prendere quale treno prendere non è casa sua l'italia non è casa sua lui ce la sembra con gli italiani gli stranieri lui se ne va in un altro paese straniero e sta tranquillo hai capito da noi non gli piace mi scusi lei perché io ho tanto lei scusa lei che fa un ragionamento così intelligente visto che io la mia famiglia è in italia dal cinquecento una famiglia di avvocati mentre una famiglia mio nonno mio bisnonno era senatore del regno era senatore del regno della repubblica era senatore del regno avvocato cesare parenzo era senatore del regno mentre la sua famiglia ancora accendeva il fuoco con le pietre mio no il mio trisnonno era senatore del regno mentre la casa sua per accendere il fuoco usavano le pietre però non ha risposto alla domanda per chi ha votato cioè quella è la più interessante non ha non ha risposto alla domanda per chi ha votato cesare parenzo ma va benissimo del regno ma va benissimo cesare parenzo ottimo tutto ottimo mentre mentre i parenti suoi ancora stavano nelle caverne cercavano di capire questo non lo possiamo sapere come accenda fuoco come accenda fuoco sebastiano frossinone vai sebastiano da frossinone pronto iniziamo bene oggi questa battaglia ragazzi questa battaglia quotidiana 800 24 00 24 il nuovo governo tu sai cosa sei sei il re mida al contrario il re mida come voi sapete nel mito fammelo dire in due secondi trasformava tutto in oro tu trasformi tutto in merda ogni discussione sei un re mida al contrario ogni discussione la rende schifo ma no io non c'entro niente in questo caso remida toccava ogni cosa e diventava oro quello che tocchi tu ogni notizia diventa merda sebastiano da frossinone vai non è barisoni mi sembra barisoni non è io voglio solo io sebastiano voglio solo parlare con barisoni gli altri non mi interessa no 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 non c'entro barisoni non mi interessa mi interessa sebastiano barisoni dai è a trento quello cazzo di festival dai a trento si ho sentito una diretta meravigliosa con l'innocenzo cipolletta bellissimo stantina sono uscito da casa per fare il mio sorriso in giro di lavoro ragazzi non c'è un clandestino in giro non se ne vede uno ho fatto cinque sei paesi cioè tu dici che in attesa di Salvini se sono nascosti dici non lo so è l'effetto Salvini gli avranno detto questi qua delle cooperative questi qua che gestiscono i centri d'accoglienza non vi fate vedere che è cambiata l'aria ma tu sei contento o no sei contento o no felicissimo tu sei felicissimo subito dell'effetto Salvini ragazzi è l'unica novità vera no ma non l'unica novità l'unica novità avanti tutta avanti tutta togliere i soldi all'accoglienza cinque miliardi ma subito facciamolo ma quando si deve firmare dove si deve firmare questa cosa david dove si deve firmare questa roba qui ma non lo firmerà ma poi che succede non mi interessa ma sono dettagli capisci sono dettagli ma come dettagli governare vuol dire gestire ma sono dettagli non deve interessare a me governare vuol dire gestire blocchiamo tutto fermi lì in Italia non ci sta quindi noi diciamo di nuovo aiutiamoli a casa loro buongiorno ragazzacci vi volevo correggere oggi non è San Giustino oggi è San Rosicone perché vedere tutti i sinistrorsi ieri sera in televisione tutti impettiti ah no perché vedrete Salvini cosa farà perché vedrete quello no secondo me scandalo rosiconi rosiconi non sono più al governo e gli brucia il forellino rosiconi dovete rosicare di più ancora voglio vedervi schiumare di rabbia sì solo così sarò felice felice hai preso per il culo per un sacco di tempo gli esponenti del Movimento 5 Stelle oggi sono al governo sono cariche istituzionali chiedi scusa David chiedi scusa David chiedi scusa chiedi scusa chiedi scusa non devo chiedere scusa proprio a nessuno ma di cosa devo chiedere perché stiamo scherzando chi chiama uno qualunque un delirante intanto Formigli ieri Corrado Formigli se la prende con Mentana perché gli dà la linea in ritardo succede anche questo nel delirio della formazione del nuovo governo grazie Enrico Mentana per questa 35-40 minuti di ritardo calma 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 mi scuso innanzitutto con il pubblico a casa perché Piazza Pulita comincia alle 21.15 mi scuso perché diciamo è un atto che mi ha messo un po' in imbarazzo per i nostri ospiti che saluto dico soltanto che ovviamente questo ritardo non è di peso da noi di peso da una scelta della rete vorrei comunque ribadire alla rete Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie che le seguiamo in diretta e le diamo siamo abituati a darle in diretta e ne siamo molto orgogliosi bene però queste sono cose tra di noi beh tra di voi no tra di voi no perché le hai dette per cui non so tra di voi subito no c'è anche questo litigio c'è anche questo litigio da raccontare no c'è di cose di televisione è stato ripreso da tutti i siti sì assolutamente grazie a Roberto D'Agostino grazie a Cazzo è stato chiarissimo grazie a Cazzo questo era vecchio però sembra Cruciani su Barisoni sul ritardo di Barisoni ogni tanto formigli sul ritardo sì devo dire peraltro che oggi Barisoni è una smizione straordinaria con Cipolletta dove ci ha spiegato non ce ne frega un cazzo nulla zero non ce ne può fregare di meno ma zero proprio Matteo da Pistoia e come si passa da quel clima di Trento che lui ci sta raccontando dal Festival dell'Economia questo è abissale è tutto un brivido è abissale è tutto un brivido usiamo una parola è tutta un'emozione c'è uno spread enorme diciamolo così tra la trasmissione di Barisoni e questo è uno spread enorme Matteo Pistoia dimmi dimmi no io ho sentito mi si era gelato il sangue sentendo Parenzo in precedenza perché ho sentito Parenzo che si mancava del fatto che il suo bisnonno trisnonno sì senatore del regno certo il regno d'Italia sai Parenzo se la tua famiglia si viene dal 500 andate bene a fare per dire a quella per dire a quel somaro per dire a quel somaro ma non c'entra niente per dire a quel somaro che diceva che non sono italiano che la mia famiglia ha contribuito nel risorgimento calma 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 qual è il problema oggi Matteo che cos'hai perché sei partito così lancia il resta perché sono partito così perché ho sentito lui che fa il comunista c'è che ti ha fatto esplodere il popolo il popolo è passivante e prende per il culo chi non è di famiglia nobile ma no non ha detto questo guarda adesso non voglio fare l'interprete non ha detto questo ha detto quello lo vuole cacciare dall'Italia ha detto vai via dall'Italia e quello dice io sono in Italia dal 1500 non è che ha detto vai a fare in culo ma chi se ne frega sei dal 1500 in Italia cioè perché ti fa venire il sangue al cervello prima del 1500 la sua famiglia si trovava ma perché perché ti fa venire il sangue al cervello Parenzo mi fa venire il sangue al cervello perché fa tanto il comunistello parla di coesione dei problemi della collettività e poi piglia per il culo la gente che non è nobile lei non ha capito assolutamente un cazzo ma la cosa non mi stupisce quello mi ha attaccato dicendo perché non sono italiano io gli ho ricordato che la mia famiglia non solo è in Italia sul suolo italico anzi dal 500 perché come lei sa l'unità d'Italia è avvenuta un po' dopo ma in più nella mia famiglia hanno contribuito nel risorgimento a crearlo sto paese ha capito? a differenza sua che probabilmente il suo la sua famiglia nel 500 probabilmente cacciava ancora i bisonti con la fionda con la fionda la sua famiglia cacciava i bisonti con la fionda la domanda Matteo cimile troglodita scimmia ma vai a fare a me uomo delle caverne vai a cacciare i bisonti fermi tutti e due allora Matteo la domanda è questa è vero che la tua famiglia cacciava i bisonti all'epoca nel 1500 questo è interessante ma meglio cacciare i bisonti Dio Bono è un'espressione è una famiglia senza dignità è dal 1500 che le case il culo le vache le coglioni ma perché prima del 1500 ritornate dove eravate prima del 1500 la città di Parenzo la città di Parenzo si chiama da Parenzo perché i miei antirati facevano gli stampatori cioè gli editori nella città di Parenzo mentre a casa mia nel 500 stampavano i libri a casa sua non sapevano neanche che cosa fossero gli spazi bianchi tra le lettere ignorante di un ignorante imbecille imbecille a casa mia nel 500 stampavano i libri a casa sua non guardavano neppure le figure neanche le figure imbecille Mario da Salerno vai tutto l'ultrasforma tutto io non c'entro niente mi fai mi fai confrontare mi fai confrontare con questi imbecilli ma io non c'entro nulla niente insomma io volevo ragionare sul governo mi fai rispondere corpo a corpo con questi animali Mario Mario pronto di apparenzo che abbassa il telefono anzi e che tornasse i soldi al regno delle due Sicilie visto che era come ha detto che ha rifatto il ritorcimento italiano certo vergognati perché perché Mario adesso 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 andiamo anche io voglio dire scusi con tutti i problemi che ci sono in Italia fermo fermo il regno delle due Sicilie no ti prego il regno delle due Sicilie restituire i soldi al regno delle due Sicilie lascialo ai neoparbonici lascialo al signor Pino Aprile che ha scritto un libro sul sud non è vero perché lui ha detto che erano senatori del regno calma 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 perché sei intervenuto Mario che cosa vuoi dire sono intervenuto perché devono lasciarli lavorare questi ragazzi ho 75 anni ma chi glielo vuole impedire è la mia chi vuole lì a quella piazza pulita io farei piazza pulita lì di quella mondetta che c'era ma che c'era ma c'era che sta sempre in America e viene qui a dire che ci sono i fascisti che è Frida Zucconi Zucconi sì signor Zucconi signor Zucconi si deve vergognare sì sì Davide dimmi fascisti dove sono i fascisti dimmi Davide che c'è che deve essere apposto l'Italia aspetta 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 fermola Mario Mario fermo fermo un attimo Mario fermo un attimo sì Davide che vuoi dire dobbiamo capire da questo gentile ascoltatore per chi aveva votato il 4 di marzo sì per chi ha votato Mario io sì ho votato per la Lega bene benissimo ottimo grazie Andrea dalla provincia di Ascoli grazie